Ciao a tutti, oggi vi propongo le mie creme tart senza glutine in monoporzione. Per prima cosa preparate la pasta frolla. Io ho utilizzato il bimbi, ma si può tranquillamente preparare a mano. Come farina ho utilizzato la Nutri-Free per pasta frolla, 300 g, 100 g di zucchero, 2 uova, una bustina di vanillina e un cucchiaino raso di lievito per dolce. Impastate il tutto, prima nel bimbi o all'interno di una ciotola, e poi a mano sulla sfianatoia, fino ad ottenere un panetto morbido e omogeneo. Coprite e lasciate riposare in frigo almeno per 30 minuti. Trascorso questo tempo riprendete la pasta frolla e stendetela sulla sfianatoia infarinata con farina di riso. Assicuratevi sempre che sotto la pasta frolla scivoli bene sulla tagliere. Con dei tagliabiscotti a forma di cuore ricavate tanti cuoricini. Se non avete la tagliabiscotti a forma di cuore potete anche disegnare delle sagome su un foglio di carta da forno. Disponete i cuori su una teglia foderata con carta da forno e bucherellateli un po' con la forchetta. Fate cuocere i biscotti in forno caldo e preriscaldato a 180 gradi per 13 minuti. Devono diventare dorati. Nel frattempo rimpastate i ritagli e con un coppapasta più piccolo, sembra a forma di cuoricino, ricavate tanti cuoricini e fateli cuocere sempre a 180 gradi per 10, massimo 13 minuti. Poi montate la panna bella fredda, panna già zuccherata, mettete da parte, poi mescolate il mascarpone con il latte condensato e lo zucchero a velo. Mescolatelo prima con la spatola e poi aggiungete anche la panna montata. Il latte condensato serve per stabilizzare bene la panna. Nel frattempo vi presento anche il mio gattino randagio preferito che mi osserva da dietro la finestra e miagola. Unite la panna montata alla crema e mescolate prima con le flusse e poi con la spatola. La farcia è pronta. Sfornate i biscotti e lasciateli raffreddare bene. Guardate come sono carini. Trasferite la farcia all'interno di un sac a poche con il beccuccio rotondo e decorate i primi cuoricini con dei sciuffetti di crema. Sopra adagiate un altro biscottino a forma di cuore. Decorate anche questi. Questa ricetta è presente anche nel mio libro In cucina senza glutine. Vi lascio il link nell'info box. Però c'è la versione più grande. Aggiungete anche delle fettine di frangola, i biscottini decorati con zucchero a velo e delle meringhette. Poi potete scegliere la decorazione che preferite. Vi ho aggiunto anche degli zuccherini della Decorì che sono senza glutine, a forma di cuoricino. E spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta. Provateli, mi raccomando, e fatemi sapere cosa ne pensate. A presto con un nuovo video. Ciao a tutti!